In un documento che risale al 12 dicembre 2022, Federalberghi Sud Sardegna, Confindustria Sardegna Meridionale, Confesercenti Cagliari, Associazione B&B di Cagliari e l'Associazione Extra, avevano chiesto al Comune di Cagliari di prendere in considerazione un elenco di investimenti e gli introiti della tassa di soggiorno 2023. Tra questi, controlli formali e sostanziali per il contenimento dell'abusivismo e il potenziamento e la promozione internazionale del sito cagliariturismo.it, con obiettivi determinati di crescita testimoniati dal numero di accessi per nazione. È trascorso un anno per constatare una scarsa conformità e mancanza di rispetto della norma sulla destinazione dei proventi dell'imposta versata dai turisti, con la costruzione del prodotto integrato. Cagliari, con tutti i suoi accessori e dettagli, che puntava soprattutto a migliorare la qualità dei servizi offerti, anche nei mesi di spalla, per ampliare la permanenza media dei turisti e portarla almeno a tre giorni. Lo scopo di queste imposte è stato snaturato completamente. Si sono creati degli investimenti e delle cose che col turismo non c'entrano niente. Non si è creato quello che abbiamo chiesto e noi l'abbiamo chiesto come operatori e come esperti di turismo. Noi vorremmo sapere chi ha deciso quali destinazioni e quali esperti hanno deciso che queste destinazioni di questi fondi avevano delle finalità turistiche perché a noi non risulta. Noi vorremmo essere ascoltati, noi rischiamo tutti i giorni tutto quello che abbiamo sul turismo. Noi siamo i veri esperti del turismo e non siamo persone che un giorno si occupano di turismo e il giorno dopo di agricoltura. Quindi vorremmo non solo essere ascoltati, ma vorremmo che le nostre idee, i nostri piani venissero attuati perché sono quelli che daranno sviluppo a questa città. Voi siete il braccio operativo, siete quelli che sul territorio testano e vedono quello che succede a livello di turismo. Cagliari non può più avere un turismo di prossimità a questo punto? No, Cagliari ha un turismo, non solo ha un turismo di prossimità, ma ha un turismo casuale, nel senso che siccome aumentano i voli low cost, aumentano i turisti, ma senza alcun piano, senza alcuna determinazione, senza avere in mente un target, senza avere in mente un piano a breve, a medio, a lungo termine.